Aveva intascato indebitamente circa 8.000 euro, ma è stato beccato e denunciato. Ad individuare il furbetto del reddito di cittadinanza è stata la Guardia di Finanza. Le fiamme gialle della tenenza di Sansepolcro hanno infatti individuato un soggetto che aveva messo di indicare nella dichiarazione sostitutiva unica presentata per la certificazione del reddito ISEE un patrimonio mobiliare superiore alla soglia massima di 6.000 euro. Dalla ricostruzione documentale dei finanzieri, effettuata in stretta sinergia e con uno scambio informativo con l'Inps, l'ammontare complessivo del sostegno economico indebitamente percepito nel lasso di tempo tra il maggio 2019 e l'ottobre 2020 ammonterebbe circa 8.000 euro. La persona quindi è stata denunciata per aver indicato dati non veritieri nelle attestazioni ISEE e per non aver provveduto alle comunicazioni di variazione del reddito o del patrimonio come invece previsto dalla normativa. La stessa segnalazione è stata fatta poi anche all'Inps per il blocco delle successive erogazioni e anche per il recupero delle somme percepite senza averne diritto. Negli ultimi mesi, infine, sono già una decina i soggetti scoperti dalla finanza retina che hanno percepito in maniera irregolare contributi del reddito di cittadinanza per un totale di oltre 40.000 euro a discapito di chi, specialmente in questo momento di difficoltà, ha realmente bisogno di assistenza.